Buonasera, vi ringrazio della partecipazione. Ho voluto organizzare quest'incontro con la stampa per illustrare mille giorni di lavoro del Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Interno intendo dire tutte le strutture di questo di Castero e anche le altre strutture con le quali e per le quali questo di Castero esercita una funzione di coordinamento per cui dico subito che ringrazio tutti i responsabili delle strutture di questo Ministero che guido per il contributo prezioso che mi hanno dato in questi tre anni che ovviamente avranno come seguito gli anni o i mesi a venire. Vedremo tante altre cose importanti che saranno realizzate nei mesi a venire e ringrazio anche i vertici delle altre forze dell'ordine. Vedo qui il comandante generale dei Carabinieri, il comandante generale della Guardia di Finanza e il il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il comandante della Forestale oltre che il comando dei Vigili del Fuoco, il comandante dei Vigili del Fuoco. Io vi ringrazio davvero tutti per il lavoro che avete fatto perché i risultati che sto per illustrare non avrebbero avuto luogo senza il vostro lavoro e ringrazio anche con particolare calore e con particolare riconoscenza il capo del mio gabinetto e quindi il capo dello staff e il prefetto Luciano Lamorgese, il mio capo dell'ufficio legislativo, il prefetto Bruno Frattasi, gli altri vertici dei miei dipartimenti, il prefetto Belgiorno, il prefetto Morcone, il prefetto Musolino che lascerà questa funzione nei prossimi giorni e il prefetto Varratta per quanto riguarda il personale. Io illustrerò, spero in modo rapido, alcune cifre perché vorrei fare pochi commenti e lasciare spazio ad alcune immagini e ad alcuni numeri. Io sono qui per dirvi che nel triennio che ho avuto modo di trascorrere in questo palazzo abbiamo fatto un lavoro straordinario che ha portato ad un risultato veramente eccellente. Il risultato eccellente è quello del 2015 come l'anno con il minor numero di reati nel decennio. Vedete il grafico dell'ultimo quinquennio? Se andassimo a ritroso sarebbe sempre record, ma questo è il dato sull'andamento della delittuosità nell'ambito dell'ultimo quinquennio. Per essere umani e quindi trasformare i numeri in persone, noi abbiamo avuto 350.000 reati in meno tra il 2013-14 e il 2015-16. Quindi tra il 2013 quando sono arrivato io e il 2016 abbiamo avuto 350.000 reati in meno. Significa 350.000 vittime di reato in meno. Persone o valori o istituzioni quando il danno è o il reato è nei confronti della pubblica amministrazione che non hanno subito un reato. Questo è un valore che è essenziale per la tenuta di una comunità. Noi siamo nel 2015 all'anno con il minor numero di reati nel decennio e la curva è una curva che non ha visto incertezze dal 2013 ad oggi. Nell'ambito di questo discorso globale noi abbiamo un punto di particolare orgoglio proprio perché stiamo parlando di persone e il reato non è mai una astrazione perché tocca un bene protetto altrimenti non sarebbe reato. Mi riferisco nel caso più grave agli omicidi. Noi abbiamo avuto nel 2015 e nei dati consolidati dunque fino a oggi l'anno scorso 430 omicidi a fronte dei 556 della stagione a cavallo del 2011-2012. Basta fare le sottrazioni per comprendere di quante persone uccise in meno ci sono state nel nostro paese. Questo nostro lavoro è un lavoro di straordinaria importanza anche per quanto riguarda la criminalità organizzata. Voi sapete che il dato della criminalità organizzata che è un di cui quindi la riga sotto e un di cui della riga sopra viene penalizzata dai dati di Napoli, degli omicidi a Napoli su cui abbiamo fatto un importante intervento per diminuire esattamente il numero degli omicidi. Poi c'è l'altra slide riguarda esattamente i reati predatori. Ho voluto concentrarmi sul reato che più offende la persona ossia la sua morte, il suo omicidio e poi sui reati che destano un allarme sociale particolare ai cosiddetti reati predatori. Se guardate questa scheda vi accorgerete come vi è un calo molto molto significativo dei reati predatori anche per quanto riguarda specificamente i furti. Sui furti, ma ne parlerò poi in coda quando dirò della legge sulla sicurezza urbana, noi abbiamo ottenuto degli importanti risultati ma dobbiamo e vogliamo fare ancora molto di più. Il calo riguarda anche le rapine ed è un calo molto significativo perché se guardate questa curva vi rendete conto che ci sono state parecchie rapine in meno. Ovviamente stiamo parlando di numeri che in valore assoluto sono differenti quindi se io vi dico che le rapine sono passate da 43.000 dell'anno in cui precedente a quello in cui sono arrivato io a 33.000 sono 10.000 rapine in meno. Non sono poche ma altra cosa è il dato sui furti perché se si torna alla scheda precedente e si va a fare la valutazione da un milione e mezzo a un milione e tre un milione e quattro significa che ci sono stati oltre 100.000 furti in meno. Per quanto riguarda invece il contrasto alla criminalità organizzata a volte troverete dei paragoni per ambiti omogenei e cioè essendo un triennio quello di cui sto parlando c'è un triennio precedente come elemento di paragone quindi talvolta abbiamo indicato il dove è più facile agglomerare i dati per poter fare il paragone abbiamo utilizzato il triennio precedente e da questo punto di vista noi abbiamo ottenuto dei risultati veramente eccellenti. Quando vedete che c'è una diminuzione per esempio 7.127 mafiosi arrestati 5.528 mafiosi arrestati è un decremento del quale noi andiamo orgogliosi perché vuol dire che l'azione di contrasto produce la sua efficacia in quel caso non è che c'è un fondo infinito di aggressione per il quale non si finisce mai di arrestare l'obiettivo è farli scendere 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 finché non li si arresta tutti quindi quando noi poniamo a paragone questi due periodi denunciamo un risultato positivo cioè il risultato positivo cosa di cui vi accorgerete anche per quanto riguarda gli enti locali sotto accesso o gli enti locali sciolti è un dato che segna la tendenza di una aggressione senza sosta perché stiamo ragionando di migliaia ma una aggressione che sconta positivamente le azioni precedenti degli anni precedenti di 219 latitanti catturati 44.000 beni sequestrati 15.000 beni confiscati per i decimali o per la seconda la terza quarta e quinta cifra rimando alle slide terrorismo internazionale su questo io vorrei sottolineare quella banda blu in mezzo tra i due dati e la legge noi abbiamo fatto una legge per quanto riguarda il terrorismo internazionale e abbiamo voluto paragonare un prima e un dopo per dire che cosa che la prevenzione le nuove norme funzionano cioè noi abbiamo arrestato 101 estremisti siano estremisti religiosi o appartenenti ad altre organizzazioni terroristiche abbiamo espulso 102 soggetti per motivi di sicurezza con un incremento significativo il 155 per cento e tra questi nove imam non voglio divagare troppo ma l'espulsione degli imam conferma e segna un punto della nostra strategia cioè da noi avviene una separazione che è giuridica che è culturale che è di natura strategica per la sicurezza e cioè separare chi prega da chi spara ma se chi prega inneggia alla violenza e fomenta l'odio della propria comunità noi lo cacciamo via per motivi di sicurezza nazionale a prescindere dalla sussistenza dei requisiti per l'arresto che vengono valutati dai magistrati la prevenzione per noi ha significato 124.000 persone controllate 25.000 veicoli controllati 286 navi e relativi passeggeri controllati quando io ho detto 124.000 persone controllate non sono state sorteggiate le persone da controllare sono state controllate persone che secondo il dipartimento della pubblica sicurezza meritavano di essere controllate in quanto sospettate altro capitolo il capitolo che riguarda l'ordine pubblico quello sul terrorismo lo conoscete bene ne ho parlato tante volte voglio ribadire questi dati perché sono dati ormai consolidati che segnano un prima e un dopo che segnala anche la funzionalità di una legge ci sono anche dei magistrati presenti mi riferisco per esempio al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che un magistrato i magistrati sanno la differenza tra le leggi utili e quelle inutili quando il parlamento fa una legge utile tendenzialmente non viene inutile tendenzialmente non viene applicata quando il parlamento fa una legge utile immediatamente viene applicata ed è quello che si è verificato nell'ambito della legge sul terrorismo perché il nostro ordinamento ha visto includere una serie di norme che hanno rappresentato un successo in quanto sono state immediatamente applicate ordine pubblico quando si parla di ordine pubblico a volte non si ha idea della grandezza dei numeri a parte che chiunque frequenti questo palazzo chiunque frequenti il comando generale dei carabinieri o della guardia di finanza e si occupi di ordine pubblico sa bene che è quasi una scienza perché ci sono momenti in cui la saggezza e l'intuizione sul posto ti portano ad avere la mano leggera per evitare danni maggiori e momenti in cui invece devi essere più forte per evitare che i danni maggiori arrivino dalla tua morbidezza e questa è una valutazione sul sul campo che spesso deve essere affidata all'intuizione dei nostri uomini in trincea oltre che della catena di comando bene noi abbiamo governato praticamente 31.000 nel triennio 31.000 manifestazioni di rilievo in ambito nazionale sono state arrestate in questo ambito 464 persone sono state denunciate 10.827 persone ci sono stati 1.600 feriti questi 1.600 feriti soprattutto per quanto riguarda le forze dell'ordine rappresentano un dato molto 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 lo dico tre volte in decremento rispetto agli anni precedenti cioè noi abbiamo avuto un numero significativo di feriti delle forze dell'ordine in meno rispetto agli anni precedenti nella presidio del fisico del territorio noi siamo stati aiutati anche dall'esercito abbiamo fatto ricorso all'esercito oltre 7.000 uomini sono impegnati 7.000 militari nella vigilanza di obiettivi sensibili questi 7.000 militari impegnati nella vigilanza di obiettivi sensibili stanno a presidio fisico di postazioni fisse con postazioni fisse e danno modo e luogo agli operatori delle forze dell'ordine della nostra polizia dei nostri carabinieri di andare sul territorio alla guida delle nostre volanti in termini tali da poter praticamente rafforzare la presenza delle nostre donne dei nostri uomini in giro per le nostre città a rafforzare non solo il senso di sicurezza reale materiale ma anche quello percepito attraverso il fatto che al loro posto ci sono i militari quindi questo ci sta dando una grande mano d'aiuto la prospettiva strategica ovviamente è integrare sempre più uomini all'interno delle forze dell'ordine in modo tale da irrobustire sempre di più ma questo arriveremo irrobustire sempre di più i contingenti delle nostre forze dell'ordine il secondo decreto di cui voglio parlare che io ho fatto io quando dico io intendo dire noi il governo su mia proposta e quindi supero la clausola di stile è quello che riguarda la violenza negli stadi e nello sport più in generale il risultato è meno incidenti e meno feriti più sanzioni perché abbiamo introdotto un irrobustimento delle questioni che riguardano il daspo e abbiamo anche un dato che è molto significativo che voi non vedete nella scheda lo dico a voce ed è il meno 38,8 per cento di incidenti per quanto riguarda l'ultimo campionato di serie a meno 38,8 per cento è un grande risultato che noi vogliamo valorizzare come effetto della strategia descritta da quella norma quella norma ha descritto una strategia molto severa i daspo i daspo sono 7531 di cui 7258 nel calcio e potevamo fare al contrario potevamo dire che di cui era altro nel senso che sono quasi tutti nell'ambito del calcio sono 7258 con un incremento del 20 per cento rispetto al periodo precedente l'ingresso in vigore della norma che nasce dal decreto il finale per quanto riguarda gli incidenti è che le sanzioni sono state di più e gli incidenti sono stati di meno quindi questo è lo schema sanzioni più dure e meno incidenti meno incidenti vuol dire anche meno feriti altro ambito quello della violenza di genere tocchiamo un ambito molto doloroso a me nella vita è capitato di firmare il decreto insieme all'allora ministro delle pari opportunità mara carfagna sullo stalking e da ministro della giustizia e da ministro dell'interno di firmare il decreto che sto per illustrarvi e che quello di contrasto alla violenza di genere quello con le tre pie cioè la prevenzione la protezione e la punizione la prevenzione attraverso nuovi strumenti come l'allontanamento del compagno violento la punizione con sanzioni più severe la protezione dei testimoni che non devono avere paura di denunciare ed è proprio da questo dato da un incremento potrei dirvi prima i segni meno vi dico prima un segno più e l'ultimo rigo vedete un più 27,7 per cento di denunce di stalking questo noi lo leggiamo come il coraggio di denunciare ci sono state meno donne uccise ci sono state meno donne violentate ci sono state meno donne picchiate vi sono state meno donne vittime di lesioni ci sono state più persone donne o loro congiunti che hanno denunciato questo è un grande risultato che deriva dal coraggio della denuncia e dal fatto di non avere paura e di non temere la ritorsione di coloro i quali sono i denunciati anche questo è un effetto della legge sappiamo che un capitolo doloroso e sappiamo anche che nessuno vuole descrivere in questo ambito come in tutto questo mio ragionamento questo come il paese delle meraviglie anche perché nessuno di noi è alice quindi nessuno di noi è alice questo non è il paese delle meraviglie ma tutte le persone di buon senso che hanno concretezza e approccio non ideologico e pragmatico ai problemi sanno che i problemi complessi non si risolvono con uno schiocco di dita occorre fare buone leggi migliorare l'efficienza e l'organizzazione e attendere che arrivino i risultati e prima arrivano meglio è e qui i risultati stanno arrivando con gradualità ma le cose vanno meglio di prima che è esattamente l'obiettivo di chi riformatore sa che la realtà si cambia riformando le cose e facendo sì che gradualmente vadano meglio senza illudersi che arrivi un giorno in cui con uno schiocco di dita tu abbia la possibilità di risolvere tutti i problemi è esattamente quello che si sta verificando nell'ambito della violenza di genere per la quale noi saremo contenti quando qui avremo solo dei numeri zero è un obiettivo utopico probabilmente ma sappiamo bene che bisogna coltivare l'utopia talvolta per realizzare come dire il sogno di una realtà migliore durante questo mio mandato ho firmato varie direttive e mi viene con un sorriso da guardare il comandante generale capolupo contro l'abusivismo commerciale mi viene con un sorriso perché l'ho un pochettino stressato in questi anni sull'argomento unitamente ai nostri prefetti che hanno ricevuto le mie direttive preestive e pre natalizie colgo l'occasione avendolo citato per ringraziare della collaborazione il comandante generale della guardia di finanze il generale capolupo che è stato accanto nel sistema di sicurezza del paese a tutti noi ed è stato protagonista adesso andrà a svolgere un importante incarico al servizio dello stato presso il consiglio di stato perché va in quiescenza e io colgo l'occasione per ringraziarlo della cooperazione che ci ha offerto del contributo brillante e prezioso e del servizio leale alle istituzioni repubblicane che ha saputo offrire nel corso di una luminosa carriera che lo ha portato al vertice della guardia di finanze tutto ciò premesso i risultati cioè la guardia di finanza ha dato una grande mano d'aiuto nella realizzazione del contrasto all'abusivismo commerciale abusivismo commerciale significa aiutare i commercianti onesti significa dire agli italiani che comprano quando comprano dal negoziante autorizzato che comprano la merce che non ha non è a rischio sanitario che comprano da chi paga le tasse quindi il contrasto all'abusivismo commerciale che è un contrasto che parte da quello che ha la bancarella abusiva per noi ha avuto come elemento centrale la risalita della filiera della contraffazione fino arrivare ai pesci grossi senza limitarci ai pesci piccoli abbiamo ottenuto straordinari risultati con un incremento del valore dei beni sequestrati rispetto al triennio precedente del 136,4 per cento così come anche le operazioni di polizia sono aumentate del 15 per cento essendo le operazioni di polizia 161.780 e 2,6 miliardi il valore dei beni sequestrati tutto ciò cosa sta a significare che il meccanismo delle priorità cioè quando il viminale quando il ministero dell'interno imprime un'accelerazione su un tema su un argomento dicendo che quell'argomento è prioritario c'è una risposta della catena di comando fino al più piccolo dei comuni e sul territorio perché altrimenti non si giustifica il fatto che a seguito della collaborazione con la guardia di finanza e delle altre forze dell'ordine e a seguito delle nostre direttive siamo riusciti a più che raddoppiare il valore economico dei beni sequestrati. Andiamo avanti anche di questo come per lo stalking io posso dire di conoscere la storia nel senso che da ministro della giustizia insieme al collega Maroni allora fui il co firmatario della proposta che diede il via all'agenzia nazionale dei beni confiscati al fondo unico giustizia tutto quel meccanismo di sottrazione i soldi i fondi cosiddetti dormienti dei boss presso gli istituti bancari e i depositi postali che noi prendemmo per trasferirli alla al fondo unico giustizia ricordo tutta la storia e per cui voi dalla dalla punto di inizio sia del 2010 potete vedere poi l'impennata che c'è stata di restituzione di beni alla collettività cioè quella curva che vedete lì e la curva è il disegno di un gesto che ha un forte impatto economico ma soprattutto un grande valore simbolico ossia il fatto che dei beni confiscati alla criminalità organizzata vengono restituiti alla collettività alle associazioni senza scopo di lucro ai ai comandi generali oppure alle singole questure o alle stazioni provinciali dei carabinieri l'ultimo caso eclatante è il covo di rina palermo che è diventato stazione dei carabinieri questo sta a significare che l'agenzia nazionale ha funzionato in termini di riattribuzione dei beni e che il meccanismo sta funzionando siamo nel corso di una importante riforma dell'agenzia nazionale dei beni confiscati ci sono state anche delle criticità ma come tutte le crisi ci possono essere crisi da fallimento o crisi da successo cioè nel senso che è stata una tale impennata quella di attribuzione allo stato di beni sequestrati e confiscati che l'agenzia nazionale si è trovata per le mani a gestire migliaia 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 ancora di beni e quindi il tema non è stato il flop dell'agenzia ma il fatto che ha avuto l'afflusso in gestione di una enormità di beni che ha dovuto in parte governare in un determinato modo in parte riattribuire e sono convinto che se studiamo bene l'ultimo andamento quella curva lì è ancora in crescita e ancora in crescita in alto è un elemento questo di importante orgoglio governo del territorio altro capitolo noi siamo qui a fare lo stesso ragionamento di cui sopra e cioè i comuni italiani quelli sono quelli a rischio infiltrazione quelli sono quindi non c'è un fondo infinito a cui attingere per incrementare i numeri degli accessi ai comuni o degli scioglimenti per mafia anche perché nel come dire trascorrere degli anni ce ne sono alcuni che sono ovviamente con la con il completamento della gestione straordinaria precedente e altri che sono e quindi sono stati tra virgolette già immunizzati vaccinati e altri che invece sono stati hanno lì a patire l'accesso e che poi sono hanno avuto una sostanziale liberatoria noi in questo minuto possiamo dire di avere avuto nei tre anni 27 commissariati per mafia 27 comuni 457 gestioni commissariali ordinarie che sta a significare per scioglimenti non derivanti dalle ragioni di contrasto alle infiltrazioni criminali e 39 commissioni di accesso agli enti locali questo è il nostro agire per quanto riguarda il controllo del territorio e il contrasto alle infiltrazioni negli enti locali anche di questa norma io fui co firmatario quando ero ministro della giustizia e quindi ne ho visto realizzare gli effetti adesso vorrei passare a un capitolo del quale sono fiero a pari titolo rispetto a quello di cui abbiamo parlato e mi fa piacere trasmettere a voi un senso di come dire di concretezza rispetto a quello di cui stiamo parlando come l'abbiamo detto prima quando ragionavamo del calo dei reati che riguarda persone questo riguarda gli stanziamenti e gli investimenti noi siamo arrivati con quello stanziamento al punto finale della curva di colore rosso il resto il blu è da quando siamo arrivati noi al governo questo significa che in tre anni la sicurezza in un periodo di spending review è diventata priorità nell'agenda di governo perché sono saliti gli stanziamenti anno dopo anno tutti i numeri che io vi sto dicendo ovviamente non nascono da una alchimia ma da certificazioni che il viminale il ministero dell'interno dunque specificamente il dipartimento della pubblica sicurezza per i rami di sua competenza forniscono con affidabilità pari al 100 per cento questi sono ovviamente dati pubblici e ufficiali chi dice che c'è stata una sottrazione di investimenti e distanziamenti nell'ambito della sicurezza dice una cosa falsa perché quella curva sta a descrivere l'esatto contrario noi siamo sempre andati in crescita e nell'ultima finanziaria vorrei ricordare che nel sistema sicurezza e difesa abbiamo messo un miliardo e se non vogliamo considerare la difesa perché vogliamo fare una roba al netto al netto anche se sappiamo quanto le due cose siano da vaso comunicante noi abbiamo avuto mezzo miliardo mezzo miliardo nell'ultima finanziaria specificamente è stato impiegato così 300 milioni per gli 80 euro alle forze dell'ordine 150 cyber security 50 potenziamento degli equipaggiamenti ma la curva degli stanziamenti in materia di sicurezza è stata esattamente questa quelli lì sono i le cifre sono ovviamente leggibili e sono declinate in miliardi di euro anche per quanto riguarda le spese di finanziamento e cioè di funzionamento noi siamo qui a potere dire che per quanto riguarda la gestione altro che il problema della 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 benzina e manca la benzina e non manca la benzina questi sono i numeri veri sono i numeri veri che testimoniano che anche per quanto riguarda la gestione ordinaria del ministero per quanto riguarda la sicurezza noi abbiamo avuto un incremento di risorse che un incremento di risorse che è andata tutta investimenti sulla sicurezza e anche per efficientamento con parola che non mi piace per rendere ancora più efficiente la gestione di ciò che già esiste per quanto invece riguarda gli investimenti e quindi la pagina l'avete già lassù noi abbiamo avuto un picco in questo anno con 184 milioni 122 per quanto riguarda gli investimenti per ammodernare le attrezzature ed equipaggiamenti delle forze di polizia e questo è un bellissimo risultato così per quanto riguarda e vado alla slide successiva le risorse nel settore tecnico logistico c'è stato anche qui un incremento costante la curva è la successiva la slide successiva ok ci siamo c'è stato un incremento costante anche per quanto riguarda il settore tecnico logistico e nella pagina accanto successiva perfetto voi potete vedere come il tutto è avvenuto con lo sforzo contemporaneo di risanamento nella gestione economica con la riduzione del debito verso il pareggio di gestione cioè quindi tutto questo siamo riusciti a farlo senza creare un ulteriore buco nel nostro bilancio senza accentuare i debiti del nostro bilancio altro capitolo mancano le forze dell'ordine oltre che mancano i soldi mancano i soldi mancano le forze dell'ordine non c'è personale dei militari ho già parlato che ne abbiamo 7.000 in supporto va bene ma per quanto riguarda questo io vi voglio fare l'esempio concreto perché voi sapete che ormai con il meccanismo degli anglismi si confondono le acque o non si capisce mai bene quindi non vuoi dire taglie dici spending review non vuoi dire certi sistemi di garanzie dici bail in non vuoi dire determinate cioè le dici in inglese tutto quello che non vuoi dire in italiano e quindi noi dobbiamo a che fare col problema del turnover che cos'è il turnover che quelli che vanno in pensione non sono rimpiazzati da nuovi che li sostituiscano allora ho fatto il paragone 2012 2013 2015 2016 senza parlare in inglese adesso turnover è entrato nel linguaggio comune allora 2012 2013 2722 operatori sono andati in pensione nel 13 l'anno dopo ne sono stati assunti 1.361 2015 2016 in pensione 2.190 operatori delle forze dell'ordine assunti 2.190 quindi vanno ad aggiungersi a una dotazione che già c'è e questo significa che noi abbiamo realizzato finalmente lo sblocco totale del turnover inteso come avvicendamento tra quelli che vanno in pensione e quelli che prendono servizio all'interno della squadra delle nostre forze dell'ordine lo abbiamo fatto solo per la polizia no la colonna vertebrale del sistema di sicurezza si nutre di un punto strategico che sono le prefetture ecco perché abbiamo fatto anche delle nuove assunzioni per irrobustire e ringiovanire il sistema delle prefetture dei territori abbiamo fatto un concorso prendendo 50 nuovi delle prefetture vorrei anche dirvi che e vado alla pagina successiva che tutto questo ha riguardato anche i vigili del fuoco qui vedo il comandante giomi e il prefetto musolino allora e dico anche che i vigili del fuoco che godono di una enorme fiducia da parte dell'opinione pubblica godono della massima stima non solo del ministro dell'interno ma di tutto il governo e nel triennio hanno effettuato 2 milioni 215 mila 221 interventi in questo triennio dividetelo per giorno e vi accorgerete della enormità dell'azione che riguarda i vigili del fuoco che vengono chiamati non solo per le missioni di istituto perché c'è l'incendio ma spesso vengono chiamati per risolvere un'emergenza domestica rispetto alla quale i nostri concittadini vedono nei vigili del fuoco esclusivamente la forza che può dare loro una mano d'aiuto con urgenza in questo triennio ci sono state 3.000 assunzioni 3.000 assunzioni rispetto alla dotazione generale del corpo dei vigili del fuoco che è di quanti che perfetto quindi coincide esattamente esattamente il 10 per cento ora io sommessamente chiedo quale ambito dello stato o quale struttura importante che ha decine di migliaia di dipendenti ha fatto assunzioni per il 10 per cento dell'ammontare totale della propria forza lavoro cioè il 10 per cento 3.000 su 30.000 è un qualcosa che statisticamente non ha uguali nella pubblica amministrazione secondo me lo voglio sottolineare perché poi quando si raggiungono importanti risultati e li si raggiungono con vari momenti ricorrenti perché abbiamo fatto i bandi sono andati a sono andati a buon fine abbiamo fatto il giuramento hanno preso servizio si è verificato tante di quelle volte che poi sembra una cosa di routine invece è stato un qualcosa di straordinario vorrei chiudere questo capitolo non perché non centri con il secondo capitolo che è quello che riguarda l'immigrazione ma nel dirvi dei risultati della sicurezza vorrei chiudere questo capitolo segnalandovi che oggi è l'ultimo giorno di lavoro al viminale del prefetto panza che da domani assumerà una nuova funzione al servizio dello stato e io devo ringraziarlo per il contributo straordinario che lui ha dato al raggiungimento di questi risultati e perché è il come dire portatore fisico di una biografia all'interno del sistema di sicurezza del paese e anche dal sistema di gestione del territorio da prefetto di napoli che non ha uguali recentemente e credo abbia portato con fierezza la divisa della polizia che non smetterà di indossare nel suo cuore anche se da domani sempre al servizio della squadra stato indosserà un'altra maglietta quindi io lo ringrazio davvero perché il ora io non vorrei sembrare carente di ringraziamenti nei confronti del comandante generale dell'arma dei carabinieri ma è l'unico che non va in pensione quindi diciamo questi ce li risparmiamo diciamo la quota aggiuntiva di ringraziamenti per quando che non credo che sia scontento però quello che è importante sottolineare è che quando si parla del capo della polizia e dei risultati in materia di sicurezza il capo della polizia e da domani lo stesso ruolo avrà il prefetto franco gabrielli indossa il doppio cappello il cappello di capo della polizia e il cappello di direttore del dipartimento della pubblica sicurezza con funzioni di coordinamento in materia di sicurezza di altri corpi che intervengono dal punto di vista dell'ordine pubblico e sono qui presenti in prima fila io in primo luogo davvero di cuore ringrazio i carabinieri senza il cui servizio noi non potremmo dire di avere questa italia così sicura noi abbiamo anche un servizio di tutele di scorte che non sto qui anche per profili di evidente delicatezza a sottolineare però vorrei dire una cosa questa notte un mio corregionale il presidente antoci del parco dei nebrodi ha subito un attentato è rimasto vivo a lui avevamo dato la scorta e ci avevamo visto giusto nel dargli la scorta ed era una scorta anche abbastanza significativa che oggi a messina hanno provveduto e abbiamo provveduto a potenziare poco fa lui ha fatto una dichiarazione io lo ringrazio di questo oltre esprimergli una solidarietà che non mancherò di esprimergli anche dal punto di vista personale e fisico recandomi da quelle parti nei prossimi giorni lui ha detto una cosa ringraziando le forze di polizia che lo proteggono e la polizia che lo protegge lui ha detto io ringrazio la mia scorta la polizia perché senza di loro sarei morto hanno risposto al fuoco i nostri è stato un vero conflitto a fuoco questa notte avevano posto dei massi per fare il rallentamento della corsa della macchina avevano messo delle bottiglie incendiarie probabilmente adesso ci saranno tutti gli accertamenti per tentare di dar fuoco sia alla macchina sia a chi ci stava dentro dopo averla bloccata e magari dopo avere ferito o ucciso direttamente i passeggeri e fortunatamente c'era anche il nostro vicequestore che seguiva il corteo non previsto lui nel dispositivo di scorta bene io all'anti vigilia pochi giorni anzi dalla ricorrenza di giovanni falcone e dei ragazzi che portano un nome e un cognome della sua scorta vorrei ringraziare i ragazzi della scorta del presidente antoci del parco dei nebrodi perché hanno salvato la vita a un uomo che sta servendo con onestà lo stato e spesso l'onestà corre ti fa correre il rischio di perdere la vita e quindi insieme a loro vorrei ricordare tutti quelli che hanno perso la vita nei servizi di scorta e tutti quelli che ogni giorno sono impegnati nei servizi di scorta per garantire la libertà la sicurezza e l'onesto svolgimento del proprio compito a tanti servitori dello stato uno dei quali ieri se non avesse avuto la scorta sarebbe morto quindi io sono anche cauto quando si parla di togliere le scorte in modo indiscriminato ci sono sempre delle valutazioni soggettive individuali che devono essere fatte dagli organismi tecnici grazie ancora a tutte le ragazze e ragazzi delle forze dell'ordine che vestendo la divisa o camminando in borghese accompagnano i soggetti delle istituzioni e non solo che ogni giorno servono lo stato e li proteggono ieri hanno salvato la vita uno di loro e quindi li ringrazio di il cuore immigrazione questi sono dati molto noti io vorrei dire con grande chiarezza qual è la linea italiana e la vorrei ripetere fino alla noia la linea italiana è numero uno salvare le vite noi proviamo a non far morire nessuno noi salviamo tutti solo dopo chiediamo se si tratta di un profugo di uno che scappa da una guerra o da una persecuzione oppure se si tratta di un irregolare se è un profugo noi lo accogliamo nel sistema di accoglienza italiano ed eventualmente verrà redistribuito nelle quote europee del sistema di ricollocamento se è un irregolare stiamo mettendo in moto e speriamo di riuscirci insieme all'europa con efficacia perché lì c'è un punto di rischio se è un irregolare dovrà essere rimpatriato questa è la linea italiana questa linea ha collocato l'italia dalla parte giusta della storia perché come nel film slide indoors provate a pensare se avessimo fatto una scelta diversa dopo la strage di lampedusa e avessimo deciso di continuare a far morire le persone come 300 ne erano morte a lampedusa oggi l'italia sarebbe stata ricoperta di vergogna e saremmo non colore quali stanno dalla parte giusta della storia ma colore quali avevano messo l'europa nella parte sbagliata della storia quindi di ciò che abbiamo fatto siamo orgogliosi anche perché la linea italiana si completa con l'arresto di scafisti e nello stesso periodo dal 2013 al 2016 abbiamo arrestato 1727 scafisti li vedete sottolineati in blu all'ultimo rigo della slide dopodiché per fare anche in questo caso una operazione verità perché i numeri che vi ho dato prima non l'ho detto all'inizio lo dico ora quelli che vi che riguardano la sicurezza tendono a smentire un po di numeri che circolano ogni tanto nelle trasmissioni televisive con delle slide colorate quanto tanto colorate quanto false sono anche colorate nella sostanza ora andiamo a un'altra questione che riguarda la verità la verità qual è stata che noi abbiamo avuto 300 morti a lampedusa nell'autunno del 2013 che nel 2014 abbiamo avuto un'impennata senza precedenti di migranti che noi stiamo svolgendo il nostro compito tutti quanti qui in questo ministero al tempo della più grande crisi dei profughi dalla fine della seconda guerra mondiale oltre che tornando al terrorismo alla più grande nel tempo della più grande insidia dalla fine della seconda guerra mondiale un insidia alla sicurezza globale bene noi stiamo svolgendo questo compito in un momento storico del più grande flusso dei profughi dalla fine della seconda guerra mondiale abbiamo avuto 2000 abbiamo avuto 300 morti nel 2013 a lampedusa abbiamo reagito come voi sapete con un'operazione di search and rescue cioè di ricerca e soccorso che ha dato orgoglio e fierezza alle nostre forze navali militari e non e alle capitanerie di porto alle polizie e a tutti quelli che hanno contribuito e siamo stati essenzialmente poi accusati nella gestione della emergenza 2014 di non fare i foto segnalamenti e di avere una lentezza nella gestione delle procedure attraverso le quali le commissioni provinciali di asilo dicono il sì o il no alla richiesta cioè da un lato ci veniva detto non li foto segnalate dall'altro lato ci veniva detto è un imbuto quello delle commissioni dal quale non si riesce a far tirare fuori troppe domande anzi ne escono troppo poche questo ingolfa il sistema abbiamo preso di petto entrambi i problemi e li abbiamo risolti tutti e due dando prova di efficienza una efficienza che oggi ci consente di andare a 20 miglia e dire ai francesi che lì non attraverseranno i migranti per andare in francia di andare al brennero e di dire agli austriaci che lì i migranti non attraverseranno e la nostra efficienza sta salvando l'europa dalla costruzione di fili spinati e di muri tanto per dire le cose come si tengono perché nulla accade per caso noi abbiamo avuto il 2016 con il 90 per cento dei migranti sbarcati tutti regolarmente foto segnalati e il 90 per cento è un dato percentuale approssimato per difetto perché non abbiamo voluto dire il 100 per cento ma è un dato che supera il 90 per cento la riga verde che voi vedete quella che ha fatto la domanda per asilo la riga blu che voi vedete quella che invece è stata censita foto segnalata con ingresso per ingresso irregolare altro capitolo oltre il foto segnalamento le la efficienza nelle commissioni anche qui non l'abbiamo risolto perché c'era il mago zurli ma perché abbiamo fatto un decreto abbiamo fatto un decreto esattamente siamo intervenuti in due occasioni e cioè sia nel 2013 che nel 2014 abbiamo aumentato il numero delle commissioni territoriali e abbiamo semplificato le procedure le commissioni erano poche e le procedure complicate le commissioni sono diventate tanto e le procedure si sono semplificate le commissioni sono state moltiplicate le procedure prevedono che non c'è più l'esame di maturità con un migrante 10 che lo interrogano ma c'è un one to one che permette assolutamente di semplificare accelerare risultato 40 risultato più 104 per cento di commissioni territoriali e più 179 per cento di provvedimenti emessi le richieste di asilo sono state 93.941 i provvedimenti emessi 86.896 cioè negli ultimi due anni l'attività svolta dalle commissioni territoriali prosegue senza sosta ed ha avuto queste indici questi indici di performance nonostante il numero degli arrivi avevamo due punti deboli perché abbiamo dovuto fronteggiare un'emergenza e li abbiamo risolti questa è efficienza allora la scheda successiva io terrei a che voi la guardaste con attenzione perché siccome il divario tra la realtà e la percezione sia in materia di sicurezza che di immigrazione è molto significativo ciò che sta in mezzo tra la realtà e la percezione si chiama spesso telecamera e si chiama spesso giornalista e quindi da voi dipende molto dell'operazione verità che credo sia corretto fare in questo momento così delicato del nostro paese secondo i dati eurostat 2015 noi abbiamo avuto in europa un milione 255 mila 600 richieste di asilo l'italia ha avuto il 6 per cento virgola 6 di richieste d'asilo la germania il 35 l'ungheria il 13,9 la svezia il 12,4 queste sono le domande di asilo arrivate in italia in proporzione agli altri rapporti agli altri paesi europei cambiate lato della slide e troverete le il numero delle richieste in percentuale in rapporto alla popolazione e vi accorgerete che l'ungheria sopporta 17.699 richieste ogni milione di ungheresi l'italia 1369 ogni milione di italiani quindi in rapporto alla popolazione il paese più obberato da richieste d'asilo è l'ungheria poi la svezia poi l'austria poi la finlandia poi la germania questo ci fa comprendere esattamente qual è la situazione italiana oggi con oltre 120 mila ne abbiamo nel nostro sistema di accoglienza dobbiamo dire che noi siamo non sulla rotta balcanica dove statisticamente prevalgono i richiedenti asilo che scappano dalla guerra di siria o da altre zone di persecuzione ma siamo qui a subire gli effetti della rotta del mediterraneo centrale che è una rotta dalla quale arrivano irregolari e dunque il nostro obiettivo è quello di rimpatriare gli irregolari quindi noi non perdiamo di vista che l'obiettivo sugli irregolari è quello del rimpatrio e alle ultime due slide troverete un paragone tra il 2013 con dei numeri in valore assoluto e il paragone in percentuale in riferimento al triennio trascorso qui al viminale relativamente a tutta una serie di numeri che riteniamo molto importanti dei numeri chiave che riguardano appunto la violenza di genere lo stalking i daspo i terroristi arrestati beni confiscati e l'andamento della delittuosità il omicidi volontari del del meno 11,5 per cento insomma e beni contraffatti e sequestrati più 136,4 allora qual è la sintesi che noi offriamo di tutto quanto la sintesi che noi offriamo è i reati calano il contrasto è più duro gli investimenti crescono gli uomini delle forze dell'ordine aumentano la prevenzione antiterrorismo ha funzionato e la prossima sfida sarà quella della sicurezza urbana noi dobbiamo fare una lotta senza quartiere e abbiamo esattamente una scala di priorità noi faremo una legge sulla sicurezza urbana che non darà tregua ai rapinatori e ai ladri perché su furti e rapine noi dovremo cambiare ancora di più marcia ed essere durissimi in modo tale da poter realizzare finalmente un allineamento anche tra la realtà in materia di sicurezza percepita e la realtà in materia di sicurezza effettiva che viene fuori dai numeri vi do un elemento ulteriore di conforto sulla nostra azione e cioè vi parlo di due espulsioni una è stata eseguita il 10 di maggio e cioè partito da fiumicino per casablanca per rimpatriato per essere rimpatriato un 33enne che è residente in provincia di lucca un marocchino monitorato dalla digos reperiva online materiale propagandistico d'area jihadista tra cui alcuni filmati scaricati esattamente da un polo mediatico come dire che si richiama all'autoproclamatosi stato islamico per il quale stato islamico lui non nascondeva le sue simpatie l'abbiamo presso l'abbiamo rimpatriato a casablanca ieri sono state eseguite altre due espulsioni entrambe in esecuzione di un decreto prefettizio e quindi siamo da questo punto di vista 19 dall'inizio dell'anno 85 se si considerano le 66 del 2015 si tratta anche in questo caso di due marocchini il primo era monitorato dal dap durante la detenzione io ringrazio il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria scontava una pena per rapina e aveva manifestato un compiacimento per non meglio precisati attacchi di isis nonché il proprio intento di unirsi alla formazione terroristica l'altro era anche lui ristretto presso il carcere di parma per rapina e insieme a due accompagni di cella aveva esultato alla notizia dei recenti attentati di brussel si tratta di due elementi assolutamente importanti e questo è un dato assolutamente rilevante cioè la nostra azione di prevenzione continua senza sosta e non esiste un paese a rischio zero e l'efficacia del nostro sistema fin qui è stata nel tentare di bonificare l'ambiente di cacciare via dall'italia di arrestare di controllare di buttare fuori di arrestare i foreign fighters che vogliono andare fuori a combattere e quindi di tentare di pulire il terreno non è un'azione facile ma fin qui è andata bene io vi ringrazio per l'attenzione